Il suo scopo è quello di approfondire e promuovere lo studio e la conoscenza di vari repertori bandistici. La banda etnica al concetto internazionale di orchestra di fiati predilige un repertorio originale, cioè composto di composizioni scritte per tale tipologia orchestrale. Nel luglio 2000 la banda etnica ha organizzato per i propri strumentisti un stage con una tecnica e insieme strumentali. Solo dopo quattro mesi ha partecipato l'anno scorso al concorso che poi è questo qui, la banchetta solo di Frosone. La preparazione e la direzione è affidata ai maestri Luca Cicconi e Domenico Cialardini. Questa sera eseguiamo il primo brano che è il brano a libera scelta è Sifo. Il secondo brano è il brano toplino. Banda etnica di Alatri dirige il maestro Domenico Cialardini. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.